sul podio cadetti serie A 54 kg secondo classificato Caprano Andrea primo classificato Alessandro Francesco Alessandro Francesco un podio cadetti serie a 63 tv secondo classificato d'agostino mattia primo classificato il Bonaroto Gianluca tappeto numero due a seguire serie c 66 mili centriani Matteo Dorazio Ivan Lombardo Francesco Consiglio Giovanni sul podio cadetti serie a 54 kg primo classificato Capraro Andrea grazie 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 sul podio cadetti serie d 76 kg primo classificato ferrara lorenzo un po cadetti serie di 85 seconda classificato bufalo nuca primo classificato ferrara lorenzo grazie sul podio union serie d 62 kg terzo classificato astone paolo vincendo l'applicato cammelisse francesco primo classificato brevi jucker